Il calcio femminile Nel cifre anni in circostanze ancora in là, è stato il su tiro d'amena, club al Tuatesino nel quale ha passato praticamente tutta la sua gioventù, a dare la prestezza, è la che era arrivata anche nella serie A con il CF alto a BG ma adesso militava nella terza serie con l'interno squadra di corte, era stata anche in nazionale giovanili, under 16 e 17 Tutto il cf su Tiroldamina è vicino alla famiglia e il mater per la perdita della figlia donna, noi verena la vogliamo ricordare con sorriso, la gioia e la passione che lei sapeva darci in tanto il cuore, avremmo voluto rivederla con i nostri colori ma qualcosa di più grande di tutti noi, il tutto, la vita, non ce lo ha permesso, la salutiamo nel modo che a lei faceva ridere quando lo ripeteva dopo la prima volta che lo aveva sentito Ciao Pop! Il Corviglio arriva da tutto il mondo del calcio per 1.000 e 1.000 euro, la Lega Nazionale di Nostanti ha annunciato che in occasione delle gare del campionato di Serie C, 30-40 a Como 2000 e Venezia Interland-Namma, il programma domenica 11 novembre, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Verena, i funerali si terranno in un'ultì alle vicende Ciao!